Ciao ragazzi bentornati, sono sempre io Fabrizio Conte, oggi parliamo ancora della Nikon Z6 II O2, chiamatela un po' come volete. Oggi andremo a vedere come impostare la nostra macchina insieme, quindi apriremo tutti i menu e andremo a vedere quelle cose che già conosciamo, ma soprattutto quelle cose che sono nuove in questa macchina e vi anticipo subito che di cose nuove e di cose davvero interessanti ce ne sono un bel po'. Andiamo a vedere subito come impostare la nostra macchina dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati, se tu sei nuovo e ancora non mi conosci, io mi chiamo Fabrizio Conte, sono un fotografo e videomaker e lavoro nel campo delle immagini digitali da più di 20 anni. E vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un mi piace e a lasciare dei commenti su questa macchina, perché davvero questa è una macchina molto molto ben riuscita da parte di Nikon. Io vi spoilero subito che oggi l'ho provata, tra un'acquazione e un'altra sono uscito di corsa, ho messo su il 24-70mm, il 50mm e mi sono portato anche dietro il Meyer Gorlitz. Li ho provati tutti e tre e vi dico subito che è una bomba, ma non voglio anticiparvi niente, dopo di questo video uscirà appunto quello sulla prima uscita e sull'analisi dei file che ho tirato fuori. Niente di artisticamente rilevante, ma diciamo cose tecniche che a noi interessano di più. Molto bene, trasferiamoci sul tavolino tecnico e andiamo a vedere i menu e i settaggi principali che io utilizzo, ma che consiglio anche a voi, per utilizzare al meglio le funzioni di questa macchina. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, molto bene, eccoci qui per vedere i menu della nostra Nikon Z6 II. Vi dico la verità, volevo impostare i menu direttamente insieme a voi per la prima volta, ma purtroppo, signore, è uscito il sole, non ho resistito e quindi l'ho dovuto provare. Quindi ho settato la macchina sui miei gusti e sono uscito per provarla, anche perché poi stamattina mi hanno chiamato per fare un piccolo servizio e quindi sono dovuto uscire per forza. Ma non c'è problema, lo vediamo comunque insieme. Vi faccio vedere come tengo impostata io la mia macchina, ok? Allora, iniziamo dal menu riproduzione. Il menu riproduzione è quello classico dove trovate appunto la selezione per cancellare le fotografie, la riproduzione, di quante fotografie, la cartella da dove riprodurre le foto, le opzioni di visualizzazione e riproduzione. Quindi, quando premete play per vedere una foto, al di là della foto, se premete il multisolettore in alto e in basso, vi escono tutte queste altre informazioni. Io ho impostato l'info sull'esposizione, vedete il punto F no, l'info sull'esposizione, le alte luci e l'istogramma. Gli altri dati non li tengo selezionati. Ovviamente io vi parlo di come imposto io la macchina fotografica. Ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Poi, lo slot per la ripresa della registrazione doppio formato, qual è la slot principale? Ovviamente la XQD o CF Express, la secondaria è la SD. Non tengo di solito mostra foto scattata perché ritengo che consumi batteria. Premo io il tasto play quando appunto ho bisogno di riguardare la foto. Ma attenzione, di solito non è buona cosa riguardare sempre le fotografie, se non per un discorso di composizione. A me non piace guardare la foto per vedere come è fatta sul monitor della fotocamera, sebbene questo sia un monitor eccellente. Ma cerco di guardare solamente alcuni elementi della composizione e soprattutto l'istogramma dell'esposizione. Poi, dopo la cancellazione dice appunto foto, cancellazione poi ritorna in play e qui dopo la sequenza foto, foto ritorna in play. Ruota foto verticali io tengo off, copia foto appunto per copiare le foto, slide show vi da vita ad una rappresentazione delle foto e la classificazione vi da modo di dare un punteggio. Poi entriamo nel menu di ripresa fotografica dove appunto già troviamo qualcosa in più rispetto ai modelli precedenti. Allora, il reset del menu, cartella di memorizzazione, appunto potete rinominare la vostra cartella, vedete io l'ho già fatto. Il nome del file, potete rinominare il vostro file. Poi, selezione slot primario, quindi il mio slot primario appunto CFexpress, lo slot secondario appunto la CF. La funzione dello slot secondario io la tengo in questo momento impostata così, cioè RAW sullo slot CFexpress, JPEG sul secondario. Perché al momento con il mio computer ho ancora alcuni problemi di compatibilità DNF e quando appunto nelle puntate precedenti vi dicevo, attenzione, quando cambiate corpo macchina dovete tenere presente che molto probabilmente dovrete cambiare non solo alcuni programmi o almeno aggiornarli, ma in molti casi dovrete addirittura aggiornare proprio l'hardware, quindi il computer. E io adesso sono a metà strada perché ho un problema sia hardware che software, ma non solo appunto per la macchina fotografica, ho problemi anche con il video. Allora, dicevo, in questo momento la tengo impostata su RAW JPEG, ma di solito la tengo impostata su backup, cioè le foto vengono salvate in originale sia sulla prima scheda che sulla seconda, nel caso appunto la prima scheda possa essere corrotta. Ma attenzione, adesso che siamo entrati in questo nuovo mondo, in questo nuovo universo del CFexpress, credo che andrò a scattare o in eccedenza oppure continuerò ad utilizzare il RAW JPEG, perché il backup credo sia inutile, altrimenti una scheda di 200€ mi devono dire che cosa l'hanno inventata a fare. Poi, scegliere da immagine, potete scattare in full frame, in DX, 1 a 1, 16 noni, DX, vi ricordo se montate ottiche APS-C su un corpo full frame potete sfruttare appunto anche quest'ultimo, proprio perché avete il formato 24x16mm. Poi avete qualità dell'immagine, la qualità dell'immagine potete impostare la qualità appunto delle vostre foto, quindi se volete scattare in RAW, se volete scattare in JPEG fine, vedete, normale, basic, eccetera, eccetera. Ovviamente io tengo il massimo, quindi NEF più JPEG fine. Poi avete la dimensione dell'immagine, ma questo, soprattutto per quanto riguarda il JPEG, potete scegliere se scattare a 6.000x4.000, 4.000x3.000 o 3.000x2.000 e appunto qui dice anche i megapixel, quindi sfruttare il piano sensore 24 milioni di pixel, 13 o 6. Nel NEF vi dà la stessa possibilità, vedete, quindi 6.048x4.024, quindi 24 milioni, 13 milioni o 6 milioni, ovviamente io tengo tutto al massimo. Poi registrazione NEF RAW, qui potete scegliere la qualità del vostro file, innanzitutto il file vi ricordo non è più a 12 bit, ma bensì a 14, potete scegliere se ritornare a 12, ma ovviamente non penso lo faccia nessuno. Quindi qui potete scegliere appunto la qualità dei vostri file RAW, quindi potete scegliere un file con una compressione senza perdita, un file con una compressione maggiore o un file senza compressione. Io utilizzo senza compressione, appunto per avere un file con maggiori informazioni, senza il problema appunto di essere compresso. Poi abbiamo l'impostazione delle sensibilità ISO. Attenzione, questa è una delle prime grandi novità. Perché novità? Questa c'era anche sulle altre macchine, ma la novità sta nella performance del sensore, che ricordiamo è supportata da ben due processori X-Speed 6. E devo dire che fanno davvero la differenza. Vi ho detto, io sono già uscito, lo so, dovevamo uscire insieme, non ce l'ho fatta ragazzi, sono dovuto uscire, la dovevo provare. E ho voluto subito provare un'impostazione che teneva il mio amico Vincenzo e che avevo ripreso. Perché avevo detto, Vincenzo, come fai a tenere gli ISO automatici? Io non li ho mai usati. Grande errore, non li ho mai usati sulle Reflex. Ma su questo tipo di macchine, signori, vi dico che davvero vi dimenticate di quello che potrebbe essere il problema della rumorosità e del rumore cromatico del sensore, almeno per quanto ho potuto vedere finora. Quindi, adesso sto provando questa impostazione, tengo il controllo degli ISO automatici con una sensibilità massima di 6.400, ma attenzione, l'altro giorno l'avevo portato nella mia prima uscita addirittura a 12.800. E nella prossima puntata, nel prossimo video, vedrete il risultato che ho ottenuto, perché vi farò vedere i file che sono venuti fuori. Quindi sto provando, ancora ovviamente ce l'ho da pochi giorni, ce l'ho da due giorni, sto provando ancora come reagisce questo corpo macchina. Ma le prime impressioni, signori, non voglio spoilerare niente, ma sono stati davvero incredibili. Ma andiamo avanti, perché ancora è lungo, bilanciamento del bianco, non ci soffermiamo. L'impostazione del picture control, questo sempre per dirvi come lavoro io, lo tengo su neutro, attenzione, lo tengo su neutro settato, come potete vedere, con tutti i parametri a zero. Proprio perché, appunto, non voglio avere dei file lavorati, ma voglio dei file flat al 100%. Poi qui avete la gestione del picture control, quindi lo potete settare un po' come volete. Lo spazio colore io utilizzo Adobe, potete scegliere anche RGB, ma ovviamente potete scegliere Adobe. Il delight attivo, sì, ma normale, potete vedere, non è una cosa che mi ha mai intusiasmato. Il numero su esposizioni lunghe, quindi, sulle lunghe esposizioni, i due processioni effettuano un lavoro di riduzione del rumore. Lo tengo attivato su normale, come anche il numero su ISO elevati, anche qui. Però questo poi lo dovrò disattivare perché voglio provare, appunto, gli ISO elevati senza la riduzione del rumore in macchina. Poi abbiamo il controllo vignettatura che tengo off. Perché? Perché ho alcune ottiche che ho scelto proprio perché hanno una determinata vignettatura. A me la vignettatura piace, soprattutto su certe ottiche che utilizzo per il ritratto. Quella vignettatura analogica che deriva direttamente dalla lenta a me piace molto. Compensazione della diffrazione, sì. Che cosa vuol dire? I due processori vanno a compensare, appunto, la diffrazione nel momento in cui utilizzate dei diaframmi molto, molto chiusi. Se non sapete che cos'è la diffrazione, la trovate spiegato in maniera ottima sul mio manuale di fotografia il problema della luce e del colore. Perché, attenzione, come dico sempre, quando ho realizzato il mio manuale, studiando diversi manuali, diversi libri di fotografia durante gli anni, non ho mai trovato un manuale che si soffermasse sul problema del colore, sul problema della luce. Cioè, su che cos'è la luce, come funziona la luce. Questa è una cosa fondamentale invece per un fotografo. Lo trovate invece nel mio manuale, avete il link sotto in descrizione al video. C'è il controllo della distorsione delle ottiche, c'è la regolazione dell'impressione ritratto. Qui potete sostanzialmente andare a regolare i colori. Quindi se l'incarnato è troppo rosio, è troppo violaceo, eccetera, eccetera, potete compensare. Ma sono cose, queste signori, io vi dico la verità, che non uso perché, ovviamente, essendo esperto di Photoshop, attenzione, adesso l'avevo lasciato impostato, disattiva. Essendo un esperto anche in uso di Photoshop, preferisco fare tutto da PC. Anche qui, scatto con riduzione dello sfarfallio. Qui, questa è una, diciamo, un'opzione che secondo me è molto più utile nel video che sulla foto. E questa va a ridurre il flickering sostanzialmente. Se non sapete che cos'è il flickering, ritornate sempre al mio manuale di fotografia. La misurazione sposimetrica, ovviamente, è sempre la stessa. Misurazione matrix, misurazione ponderata centrale, misurazione spot, quindi sul punto. E ponderata sulle alte luci, sempre con il puntino spot. Io in questo momento uso matrix, ma vi sono momenti, quando lavoro in studio, uso ponderata centrale, ponderata con la rilevazione sulle alte luci. Dipende appunto da che cosa state fotografando. Anche questi concetti li trovate sul mio manuale, non voglio ripetermi, ma... Andiamo avanti. Il controllo del flash, che adesso sono attaccato. La modalità del flash, quindi il flash sulla seconda tendina, la riduzione degli occhi rossi, oramai è qualcosa di superato. La compensazione del flash, il modo di messa a fuoco. Allora, il modo di messa a fuoco, qui avete il classico autofocus sul punto singolo, autofocus continuo, quindi il fuoco continua... o meglio, la lente continua a focheggiare sempre, senza interrompersi, mentre sul singolo, appunto, voi puntate con il mirino una parte dell'immagine, avrete il suono di conferma della messa a fuoco, quindi TT, con l'apparizione del quadrato verde nel mirino e sul monitor, e lì sapete che è appunto messo a fuoco. Nel continuo invece mette a fuoco di continuo, qui potete sfruttare il tracking, la priorità sugli occhi, eccetera, eccetera, e poi c'è la MF manual focus, la messa a fuoco manuale. Io ovviamente lo tengo impostato su singolo in questo momento, ripeto. Poi, le impostazioni di una macchina, signore, non sono mai fisse, poi vi farò vedere dopo un altro menu che ha inventato Nikon, molto molto comodo, e vi parlerò di come si lavora sostanzialmente. Riduzione delle vibrazioni, sì, autobracketing non lo uso quasi mai, esposizione multipla, una cosa che io adoro della Nikon, quindi la possibilità di fondere più scatte direttamente in macchina. La Dynamic Range, ovviamente io tengo off, ma avete anche questa possibilità. Poi avete tutta questa serie di feature molto 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 interessanti, che già avevo provato in parte sulla D750, che funziona molto bene. Quindi le riprese intervallate, quindi un timelapse con la registrazione degli scatti, poi invece avete la ripresa timelapse, quindi vi dà fuori direttamente il file video, poi la ripresa con cambio di messa a fuoco. Che cos'è? Questa è la realizzazione di una serie di fotografie per lo stacking. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, è una tecnica fotografica che vi permette di fondere più foto, che mettono appunto a fuoco diversi piani dell'immagine, ok? Quindi è stata inventata questa opzione che lo fa da solo. Poi c'è la fotografia silenziosa, in cui potete scegliere se utilizzare l'otturatore elettronico, o l'otturatore meccanico. Questa è una gran figata, è una delle cose che mi ha convinto a passare al sistema mirrorless. Il menu di ripresa del filmato. Questo è un po' un doppio del menu fotografico. Li troviamo quasi le stesse voci, è un po' ridondante, ma devo dire che comunque Nico l'ha fatto bene, perché magari c'è chi lavora esclusivamente sul video, quindi utilizza questa macchina solo per il video, ha tutte le sue belle opzioni video, divise nel menu appunto di ripresa filmato. Quindi avete il reset, anche qui il nome del file, la destinazione come prima, la dimensione del fotogramma, ovviamente qui avete il 4K, il Full HD e il Full HD 120p, mentre il 4K è solo a 60p. Io ovviamente, io sono ricordato un fotografo ed un videomaker, utilizzo il 4K a 60p, che mi dà anche la possibilità poi di dare, di creare un piccolo slow motion, se non molto esagerato, ma mi dà una possibilità di rallentare le immagini. Poi per quanto riguarda abbiamo la qualità del filmato, ovviamente altissima, poi abbiamo tipo filmato MOV o MPEG 4, questo dipende un po' da come lavorate voi, io tengo MOV, ma delle volte utilizza anche l'MPEG 4. Poi abbiamo impostazione della sensibilità ISO, idem come prima, sensibilità ISO, anche qui potete impostarla automatica o manuale, anche qui sono in un periodo di prova, bilanciamento del bianco, picture control, gestisci picture on code, di light attivo, numero supposito di elevate, controllo di iniettato, compensazione della diffrazione, qui avete sostanzialmente le stesse voci, distorsione, impressione e ritratto, riduzione dello sfarfallio, messa a fuoco, riduzione e vibrazione, attenzione, questo appunto è lo stabilizzatore, ovviamente on, e poi avete anche lo stabilizzatore elettronico, adesso non ce lo fa settare, ma avete un'altra possibilità, poi avete le impostazioni del microfono, che ovviamente non trovate nel menu foto, quindi la sensibilità del microfono, l'attenuatore, che serve per attivare il filtro passo a basso in presenza di vento, la risposta in frequenza, qui potete scegliere wide, nel momento in cui volete registrare, ad esempio, l'audio di una strada o di una piazza affollata, mentre potete scegliere range vocale, quando state facendo ad esempio un'intervista, quindi anche qui Nikon questa volta dimostra, di porre una grandissima attenzione anche sul comparto video, e ripeto, ho scelto questa macchina anche per questo, poi c'è l'attenuazione del vento, ancora una volta dedicata esclusivamente al vento, il volume delle cuffie, poi il time code per poter sincronizzare appunto diverse macchine, adesso andiamo nel menu personalizzazione, il menu più lungo, lo scorreremo abbastanza velocemente, anche perché questo è davvero molto lungo, allora priorità AF continuo, poi selezione priorità FS, allora parleremo solo di quella un po' più, allora focus tracking lock on, quindi qui avete la possibilità di settare la velocità del focus tracking, quindi più rapida o meno rapida, ok? Io lo tengo in mezzo, ancora non ho avuto modo di provarla precisamente, qui attivate tutti i punti AF, ovviamente io tengo all, quindi tutti i punti attivati, per quanto riguarda memorizzazione punti con orientamento, potete scegliere se utilizzare dei punti AF separati per l'orientamento orizzontale, per passaggio ad esempio, per quello verticale ritratto possiamo anche impostarlo su sì, poi attivazione autofocus, limitazione e selezione dell'area di autofocus, io non utilizzo l'inclusione dei punti AF, allora inclusione dei punti AF vuol dire se far ruotare i punti, quindi farli arrivati qui spingendo ancora a destra, si passa dall'altro lato, oppure no. Poi abbiamo l'opzione punto AF, allora qui nell'opzione punto AF potete scegliere se visualizzare il punto di messa a fuoco nella messa a fuoco manuale, e anche se visualizzare gli altri punti vicino al punto di messa a fuoco in quella automatica, poi avete la AF con scarsa illuminazione, si e l'illuminatore del corpo appunto per la scarsa illuminazione si. Poi abbiamo le impostazioni della misurazione dell'esposizione, quindi esposizione di un terzo la tengo così, compensazione agevolata no, aria ponderata centrale tengo un millimetro a 12 millimetri, quindi un centimetro e due, la regolazione fine dello sposimetro no, pulsante di scatto AL on, qui siamo sul menu di timer e blocco dell'esposizione, il pulsante di scatto AL che è il pulsante di scatto appunto on ovviamente, l'autoscatto e il ritardo allo spegnimento, quindi qui abbiamo impostato 10 secondi, potremmo impostare anche un minuto adesso, dato che stiamo facendo la recensione, il menu un minuto, 4 secondi la foto scattata e 30 secondi il timer di stand by. Qui siamo sul menu di ripresa display, quindi la velocità di scatto della modalità sequenziale, è impostata su tre scatti, e qui parliamo dello scatto CL, quindi non il più veloce, io ho impostato 3, potreste fare anche 5, 1 quello che volete, 1 non ha senso, poi il limite degli scatti, nello scatto continuo, ho impostato il massimo che è 200, poi opzioni di modo di scatto 5, queste sono cose che è un po' più complicate, vedete che dovrete andare a impostare, quando avete più macchine connesse tra di loro, poi avete esposizione posticipata, no, il tipo di otturatore, qui potete scegliere se è elettronico o meccanico, vedete, io ho messo appunto otturatore a prima tendina, è elettronico, avete anche la possibilità auto, che sceglie lei cosa fare, tempi di posa stessa tengo on, limitare immagine selezionabile, qui vedete potete scegliere quale area utilizzare, ovviamente io utilizzo FX, poi abbiamo numerazione sequenziale file, sì, cioè il numero progressivo, applica impostazione live view, sì, mostra di reticolo off, potete anche azionarli, lo tengo settato su questo tasto, il picking della messa a fuoco, questa altra cosa molto importante, il picking, altra novità, il picking avete tre livelli di sensibilità, vedete, io l'ho impostata su molto elevata, e potete scegliere il colore, tra rosso, giallo, blu, o bianco, io vi consiglio un colore che vale a contrasto con la scena, quindi se andate a lavorare su una scena, non lo so, su un prato, utilizzate il giallo, o il bianco, e se andate al mare, ovviamente non utilizzerete il blu, cioè usate qualcosa che contrasti, che faccia da colore complementare, quindi colore opposto a quello della scena, il picking, vi dico la verità, l'ho provato, credevo fosse meglio, cioè fosse molto più evidente, invece non è così facile utilizzare, perché delle volte si vede molto molto poco, mostra tutto in modalità continua, sì, mentre scattate una sequenza, il display continua a lavorare, mentre se selezionate no, appunto, il display diventerà vuoto, poi abbiamo le modalità del bracketing e del flash, qui andiamo molto veloce, sono sempre le stesse, quindi sincro flash, pose, compensazioni, lampo pilota, eccetera eccetera, che cosa abbiamo ancora, ordine del bracketing, ok, personalizza menu, questo è molto importante, questa voce qui, qui ne avete due, avete la personalizzazione del menu, per la fotografia, la personalizzazione del menu, per il video, poi vi faccio vedere qual è, qui vi faccio vedere come compare, poi vi faccio vedere dove lo trovate, poi avete controlli personalizzati, e c'è la personalizzazione di tutti i tasti funzione, di alcuni altri tasti, altra cosa molto importante, pulsante ok, personalizzazione delle ghiere, ovviamente, potete invertire la ghiera, queste penso sono cose che già sapete, perché ci sono su tutte le fotocamere Nikon, la pressione del pulsante per l'uso della ghiera, gli invertitori, eccetera eccetera, segna pulsanti sul grip, l'MB-N11, il battery grip che potete aggiungere, e qui vedete, personalizza, menu del filmato, e vedete, è diverso da quello che avevamo visto prima, proprio perché questo è del filmato, quello che prima era della fotografia, ricordatelo, quella della fotografia lo trovate a controlli, quello del video lo trovate a filmato, e poi qui abbiamo appunto le personalizzazioni del filmato, quindi controlli personalizzati anche qui, esclusivamente dedicati al video, poi abbiamo il pulsante ok, velocità della F, questa è importante, la velocità della F, perché qui nel video, diciamo, il passaggio di fuoco deve essere più lento, più progressivo, quindi qui dovete andarlo a settare, ovviamente, io ce l'ho ancora come da fabbrica, perché non ho avuto modo ancora di settare queste cose in maniera fine, ma penso che questo lo andrò a settare, per il mio modo di lavorare sul video, poi la sensibilità appunto dell'autofocus nell'inseguimento, anche qui va settata, adesso è sempre tutto sulla impostazione di casa, anche qui i pulsanti, ed è finito qua, andiamo adesso al menu delle impostazioni, il menu delle impostazioni, devo dire signori, è identico a quello delle precedenti Nikon, quindi non c'è molto da vedere, se non andiamo a vedere un po', bilanciamento, va bene, qui avete ovviamente le impostazioni del mirino, che su altre macchine non c'era, obiettivi CPU esisteva già, posizione messa a fuoco, mappatura dei pixel, va utilizzato nel momento in cui avete dei pixel bruciati, quindi nel momento in cui sul sensore vi sono dei pixel bruciati, e quindi nelle immagini vengono fuori dei punti luminosi imprevisti, potete eseguire appunto la mappatura di questi pixel, come è descritto in questa opzione, e seguire appunto il procedimento che vi viene successivamente mostrato. Commento sulla foto, potete aggiungere un commento, la memo vocale, il segnale acustico, dovete scegliere quale impostare, e a che volume, poi abbiamo alcuni elementi nuovi, sono la modalità aereo, come nei telefonini, quindi potete attivarla o disattivarla, avete la connessione ad uno smart device, quindi al telefono, quindi tramite il bluetooth, vedete, tramite wifi e bluetooth, quindi avete anche il collegamento al PC, tramite wifi, vedete, e devo dire che funziona, soprattutto quella smart device funziona molto bene, io sono riuscito a scaricare le foto sul cellulare molto in fretta, bisogna appunto prima connettere il cellulare e la macchina, ma si va abbastanza in fretta, io uso un iPhone e devo dire che va abbastanza bene, poi abbiamo le opzioni del telecomando che io non ho, marchio di conformità, ok, abbiamo poi il menu di ritocco, vi dico la verità signori, questo menu c'è già da un po' di tempo sulle Nikon, ma io non l'ho mai guardato, vi dico la sincera verità, se volete lo scorriamo insieme, ma per me è totalmente inutile, cioè io non faccio il ritocco delle mie foto sulla macchina, mi dispiace, quindi io lo salto a piedi pari, se voi avete voglia di guardarlo, vi faccio vedere un'altra cosa interessante, il mio menu, questo andrò a correggerlo nel tempo, perché già l'altro giorno sono uscito, dalla prima uscita ho dovuto correggere alcune cose che mi servivano, perché non ne avevo messo, però lo tengo settato così, perché poi questo qui va in, lavora, diciamo, in concomitanza con l'altro menu rapido, che lo troviamo qui sul tasto, che adesso vi faccio vedere, quindi ho impostato il picking della messa a fuoco, il tipo di otteratore, l'autoscatto, la memorizzazione dei punti con orientamento, il punto F usato, il focus tracking, il volume delle cuffie, l'attenuatore del vento, la sensibilità del microfono, il VR elettronico, la riduzione dello sfarfallio, la fotografia silenziosa, la ripresa con cambio messa a fuoco, poi vari tipi di ripresa, quindi time lapse intervallate, autobracketing, la riduzione delle vibrazioni, scatto con riduzione dello sfarfallio, selezione dello slot primario, e funziona lo slot secondario, devo dire che adesso guardando, l'ho dimenticata la doppia esposizione, ma la aggiungerò, toglierò forse, credo, la riduzione delle vibrazioni, perché la tengo sempre attivata, per aggiungere o rimuovere una voce, vedete, potete fare aggiungi o rimuovi, adesso aggiungi oscurato, perché? Perché ho raggiunto il massimo, delle opzioni che posso immettere, quindi vado su rimuovi voce, me la fa scegliere, ho detto che voglio rimuovere, la riduzione delle vibrazioni, perché tanto penso di tenerla sempre attivata, premo ok, vuoi cancellare questa voce? Sì, ok, vedete, se è riacceso, aggiungi voce, quindi adesso aggiungo voce, vado su, menu di ripresa foto, perché dovrebbe essere qua, esatto, esposizione multipla, voilà, adesso posso anche cambiare la posizione, vedete, se scorro, guardate come si muove, quindi me la vado a mettere, esposizione multipla, vicino, a questi altri tipi di ripresa, ecco qua, ultima cosa signori, vi faccio vedere, una figata che è stata, messa su questo tipo di macchie, sulle mirrorless, che prima non c'era, è questo tasto qui, il tasto I, vedete, quello che vi dicevo prima, la personalizzazione del menu rapido, da qui, vi ho fatto vedere prima, nel menu potete impostare, quello che volete inserire in questo menu, e poi lo potete attivare direttamente da questo tasto, ed è davvero praticissimo, io nella modalità fotografica, vedete, ho inserito la misurazione dell'esposimetro, i controlli personalizzati, quindi posso andare a vedere subito, se qualche tasto non mi piace, lo posso cambiare, ok, ops, poi abbiamo il peaking, lo scatto silenzioso, la messa a fuoco, i modi di messa a fuoco, poi abbiamo l'esposizione multipla, la riduzione delle vibrazioni, il bilanciamento del bianco, l'auto bracketing, l'info sulle carte di memoria, e infine il modo di scatto, quindi singolo, continuo, veloce, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, se io cambio, vedete qui il selettore, da fotografia, passo a video, vi faccio vedere, vedete, cambia il menu rapido, proprio perché, come vi ho fatto vedere prima, nei menu, può essere impostato come si vuole, qui abbiamo misurazione, la qualità del formato video, la riduzione delle vibrazioni, le zebre sulle alte luci, ancora modo area F, modo di messa a fuoco, l'attenuazione del vento, il VR elettronico, il volume delle cuffie, il peaking, anche qui il volume del microfono, e infine il bilanciamento del bianco, quindi, come potete vedere, signori, questa, questi sono i menu, e sono tutte le varie impostazioni, che possiamo settare, sulla nostra Z2, e, i tasti, l'unico difetto, che potremmo dire, i tasti ovviamente, sono più piccoli, e molto più ravvicinati, quindi potete vedere, che qui coprite, facilmente, tutte e quattro i tasti, non è che abbia una mano gigante, però, devo dire, è molto molto pratica, forse gli unici tasti, che ho trovato un po' più scomodi, sono i tasti di funzione, qui davanti, vedete che, dovendo premere il tasto, e lavorare, sulle due ghiere, diventa un po' faticoso, però per il resto, signori, devo dire, almeno in questi due giorni, questa macchina, mi ha stupito, quindi vi aspetto, al prossimo video, vi invito a commentare, diamo tanti commenti, a questo video, perché voglio capire, che cosa ne pensate, soprattutto, se siete possessori, mettete dei commenti, e ditemi che cosa vi piace, e che cosa non vi piace, nel prossimo video, vi farò vedere, i primi file, che ho tirato fuori, da questa macchina, e le analizzeremo insieme, vedremo, soprattutto, il range dinamico, del sensore, e come si comporta, l'autofocus, e il peaking, soprattutto, ho visto queste cose, qui nella prima uscita, poi, ci sarà modo, di vedere altre cose, vi saluto ragazzi, al prossimo video, che credo, esca sempre, nell'arco della settimana, tra i quattro giorni, cinque, una settimana, sapete, io sono un po' random, sulle, sulle tempistiche, di uscita, dei video, ci vediamo, alla prossima,